I Depeche Mode hanno annunciato il loro ritorno con un nuovo album intitolato Memento Mori e una tournée, la prima dopo oltre 5 anni nel 2023, con tre tappe in programma anche in Italia. Dave Gahan e Martin Gore, rispettivamente voce il primo e chitarra e tastiere il secondo, in una conferenza stampa a Berlino hanno annunciato che il nuovo album, che porta il nome della locuzione latina che significa Ricordati che devi morire, uscirà a marzo e trae ispirazione dalla pandemia, ma anche e soprattutto dalla perdita dell'amico e membro fondatore della band britannica, il tastierista e portavoce Andrew Fletcher. In riferimento a Fletch, scomparso nel maggio 2022, Gahan ha aggiunto Da parte sua Martin, oggi autore delle canzoni, ha sottolineato, La idea di memento mori è stata in particolare perché della pandemia, e anche quando ho avuto un annuncato di ritorno, ho avuto 60 anni nel 2020. Sì, questo mi ha impattato molto molto. Il passato ha cementato il titolo di album per noi. C'è stato un titolo di album comunque, ma dopo aver morto, mi sento davvero benissimo.